Terza Domenica di Pasqua Dal Vangelo secondo Giovanni In quel tempo Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade, e si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. — Disse loro Simon Pietro, io vado a pescare. Gli dissero, veniamo anche noi con te. Allora uscirono e salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non s'erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro, figlioli, non avete nulla da mangiare? Gli risposero, no. Allora egli disse loro, gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro, è il Signore. Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in mare. Gli altri discepoli, invece, vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci. Non erano infatti lontani da terra, se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di braccia con del pesce sopra, e del pane. Disse loro Gesù, portate un po' del pesce che avete preso ora. Allora Simon Pietro salì nella barca, e trasse a terra la rete piena di centocinquantatré grossi pesci, e benché fossero tanti, la rete non si scorciò. Gesù disse loro, venite a mangiare, e nessuno dei discepoli osava domandargli, chi sei, perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane, e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risolto dai morti. Quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro, — Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Gli rispose, — Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse, — Pasci, i miei agnelli. Gli disse di nuovo, per la seconda volta, — Simone, figlio di Giovanni, mi ami? Gli rispose, — Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse, — Pascola, le mie pecore. Gli disse per la terza volta, — Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse, — Mi vuoi bene? E gli disse, — Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene. Gli rispose Gesù, — Pasci, le mie pecore. In verità, in verità io ti dico, quando eri più giovane, ti vestivi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio, tenderai le tue mani, e un altro ti vestirà, e ti porterà dove tu non vuoi. Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio, e detto questo aggiunse, — Seguimi. Commento al Vangelo della Domenica di Papa Francesco Il Vangelo di oggi narra la terza apparizione di Gesù risorto ai discepoli, sulla riva del lago di Galilea, con la descrizione della pesca miracolosa. Il racconto è collocato nella cornice della vita quotidiana dei discepoli, tornati alla loro terra e al loro lavoro di pescatori, dopo i giorni sconvolgenti della passione, morte e risurrezione del Signore. Era difficile per loro comprendere ciò che era avvenuto, ma, mentre tutto sembrava finito, è ancora Gesù a cercare nuovamente i Suoi discepoli. È Lui che va a cercarli. Questa volta li incontra presso il lago, dove loro hanno passato la notte sulle barche senza pescare nulla. Le reti vuote appaiono, in un certo senso, come il bilancio della loro esperienza con Gesù. Lo avevano conosciuto, avevano lasciato tutto per seguirlo, pieni di speranza. E adesso? Sì, lo avevano visto risorto, ma poi pensavano, se ne è andato, e ci ha lasciati, è stato come un sogno. Ma ecco, che all'alba Gesù si presenta sulla riva del lago. Essi, però, non lo riconoscono. A quei pescatori, stanchi e delusi, il Signore dice, «Gettate la rete dalla parte destra della barca, e troverete». I discepoli si fidarono di Gesù, e il risultato fu una pesca incredibilmente abbondante. A questo punto, Giovanni si rivolge a Pietro e dice, «È il Signore!» E subito, Pietro si tuffa in acqua e nuota verso la riva, verso Gesù. In quella esclamazione, è il Signore, c'è tutto l'entusiasmo della fede pasquale, piena di gioia e di stupore, che contrasta fortemente con lo smarrimento, lo sconforto, il senso di impotenza che s'erano accumulati nell'animo dei discepoli. La presenza di Gesù risorto trasforma ogni cosa. Il buio è vinto dalla luce. Il lavoro inutile diventa nuovamente fruttuoso e promettente. Il senso di stanchezza e di abbandono lascia il posto a un nuovo slancio alla certezza che Lui è con noi. Da allora questi stessi sentimenti animano la Chiesa, la comunità del risorto. Tutti noi siamo la comunità del risorto. Se ha uno sguardo superficiale, può sembrare a volte che le tenebre del male e la fatica del vivere quotidiano abbiano il sopravvento, la Chiesa sa con certezza che su quanti seguono il Signore Gesù risplende ormai intramontabile la luce della Pasqua. Il grande annuncio della risurrezione infonde nei cuori dei credenti un'intima gioia e una speranza invincibile. Cristo è veramente risorto. Anche oggi la Chiesa continua a far risuonare questo annuncio festoso. La gioia e la speranza continuano a scorrere nei cuori, nei volti, nei gesti, nelle parole. Tutti noi cristiani siamo chiamati a comunicare questo messaggio di risurrezione a quanti incontriamo, specialmente a chi soffre, a chi è solo, a chi si trova in condizioni precarie, agli ammalati, ai rifugiati, agli emarginati. A tutti facciamo arrivare un raggio della luce di Cristo risorto, un segno della Sua misericordiosa potenza. Egli, il Signore, rinnovi anche in noi la fede pasquale, ci renda sempre più consapevoli della nostra missione al servizio del Vangelo dei fratelli, ci riempia del Suo Santo Spirito, perché, sostenuti dall'intercessione di Maria, con tutta la Chiesa possiamo proclamare la grandezza del Suo amore e la ricchezza della Sua misericordia.